signori conneci qua io sono chirito e vi do il benvenuto sul mio canale nella scorsa puntata abbiamo vissuto un momento molto importante per la nostra carriera un match a row contro sasha banks un match che noi abbiamo vinto dove come avete visto insomma sasha poi non se l'è presa proprio proprio bene commettiamola così insomma vediamo in questo episodio dunque come proseguirà la nostra carriera insomma la nostra scalata all'interno della wwe qua davanti abbiamo come vedete la nostra bet phoenix che ci vuole parlare e io direi di non perdere altro tempo e dunque di vedere che cosa vuole da noi ricordiamoci che sempre lo scorso episodio in un match diciamo di allenamento dai definiamolo così proprio la nostra bet ci aveva messo alla prova e noi l'avevamo sconfitta vediamo vediamo che cosa da dirci insomma la nostra bet phoenix ok ora sappiamo che sei veramente forte a bene 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 perfetto perfetto grazie ma non preoccuparti so che ho ancora tanto da imparare noi siamo umili dai noi siamo umili come giusto che sia è vero dice lei ma che molto talento grazie grazie gentilissima e da quando ho visto finora l'unico limite che hai era il tuo volo di impegnati agli attenzione attenzione come quando si andava a scuola no e al a del potenziale ma non si applica vabbè andiamo avanti credo che si può tornare a lavorare e mi sa anche a me mi sa anche a me credo anch'io continua così beh dai però abbiamo una sostenitrice qua al performance center che è la nostra la bet phoenix grazie lette ricordiamoci che tra l'altro lei ci ha sempre sostenuto anche proprio dall'inizio no se non fosse stato per lei forse ero non ci saremmo mai andati contro sasha ricordiamoci che show michaels il nostro egp che aveva avuto voleva mandare jossi jane direttamente contro sasha tra bet a mettere in discussione il tutto e poi infatti grazie a questo noi eravamo andati a rock contro sasha tra l'altro avevamo anche ben configurato perché infatti poi abbiamo vinto il match con una sasha appunto come abbiamo avuto due secondi fa che non l'ha presa proprio bene ma questo è un altro discorso direi di continuare insomma direi di continuare vediamo cosa ci aspetta il futuro insomma ok caricamento bet ci ha detto che dobbiamo comunque continuare siamo però sulla strada giusta direi dai sicuramente abbiamo fatto un'ottima diciamo come apparizione in quel dirò è come chiamola così jossi jane no 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 ancora true no ma troppo perché è sempre qua a tenere insomma nel profumo 7 ok che può allenarsi però avevo delle nuove notifiche però allora abbiamo a luoghi quindi ci si può spostare questa mensala pesi invece si può dare anche nel ring di allenamento lo faremo tra un attimo prima andiamo dai social che abbiamo dei messaggi privati insomma vediamo un po che cosa vogliono allora a bene bene la nostra migliore amica la fan demonium allora dici dice che non è una coriglia ma dietro la porta della sala di allenatori ossidati che parlavano di darcivi che è il libro cosa hai in mente le 3m messico margarita se è muchachos jose già dei nostri tu so su non tenere sulle sfide questa signorita non lo so boh dai ci stiamo dai facciamoli amichevoli io devo dire che non sono sono un po titubante siamo a diventa e trovi domani per vedere il viaggio ok abbia già pronunciato tu quindi si lei si è già portata avanti va bene va bene visto che saremo da quelle parti che è un posto allo show di lucia a vede vede un show di di lucia ebbe bene 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 lei dice infatti noi diciamo ma sono una vacanza c'è scritte non so dire al locale ragazzi lavoro pensavo a bene 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 dai allora qui insomma non è un con chi combatteremo ci lascia c'era di match che dobbiamo combattere vediamo un po allora poco matti di singolo contro una tetra locale chiamata la cancre 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 ita cancre ita luca si dirà così non lo so ragazzi ditemi voi francamente questo sto qui nei commenti come si legge in un fatta fuori contro la cancre ita me e josie oppure io e te possiamo affrontare josie a cancre it in un mezzo tag allora che vogliamo fare io voglio un match singolo francamente con tutto il dovuto rispetto contro questa cancre ita voglio un messi singolo voglio un messi singolo via voglio un messi ecco infatti voglio questa genuitamente messicano esatto esatto vedete sarà uno spazio va bene se vogliamo partecipare a questo weekend messicano direi di sì da andiamo in messico lasciamo quindi per un attimo il performance center ad orlando e ci facciamo un giro in messico bene bene una specie di come dire missione secondaria quasi direi no tanto per stare legati insomma ai giochi diciamo i casi gtr ecco tanto per farci capire insomma va bene va bene dai ci sono missione che secondaria dunque all'interno proprio del del marais bene bene fa piacere averci proprio una location indie quasi se vogliamo bene bene sono contento sono contento tanta roba tanta roba davvero tanta roba eccoci qua la nostra tanna cano che arriva un po con una una non so un'entrata ecco tra virgoletta la hiroshi tanashi ma vabbè dai ci sta ci sta va bene ci sta io direi di insomma saltare questa scena andare avanti anche perché voglio vedere e qui stavolta non la taglio perché voglio vedere la l'ingresso insomma l'entrata di questa odio mi sfugge già il nome concreita come si chiamava non lo so non mi ricordo più vabbè fa niente fa niente ecco qua ecco qua ecco qua va bene va bene la vedo la vedo la vedo la vedo incazzata non so perché ma la vedo incazzata non lo so forse non lo so gli hanno rigato la macchina quando è arrivata non lo so non lo so però la vedo molto molto arrabbiata immaginavo francamente di trovare insomma un'ottratrice mascherata ed ero davvero curioso di vedere appunto com'era ed eccola qua insomma dai va bene va bene vediamo cos'è capace di fare questa atleta messicana chissà se poi magari un giorno la rivedremo al performance center un giorno la rivedremo in quel di nxt barra comunque nel man roster chissà magari non lo so magari poi la ritroviamo al performance center e chissà chissà questo ovviamente credo che sia un'ottratrice comunque creata appositamente per la storia insomma di w2k ma rise almeno credo francamente cioè io devo dire che ammetto la mia ignoranza però non la conosco francamente ecco da kangreita loca ecco come si chiama e francamente ammetto ripeto la mia ignoranza ma non credo che esista veramente ecco tra virgolette o poi magari si è non lo so se magari qualcuno di voi è più esperto di me del mondo della luce in particolar modo quella femminile in questo caso mi raccomando qui sotto nei commenti fatemelo sapere io chiedo già venia se ho sparato per caso qualche cazzata insomma ripeto non sono devo dire esperto di lucia tanto meno di lucia al femminile ecco mettiamola mettiamola così amo lo stile di lotta insomma del luciador devo dire che lo ammiro davvero tanto e lo amo lo amo alla follia però devo dire che per mancanza insomma di tempo e via dicendo purtroppo non seguo molto da vicino appunto la lucia al contrario come mai ben sapete se mi seguite ovviamente già da un po sui miei social che sia tiktok che sia che sia appunto qua su youtube che sia ovviamente particolarmente anche su twitch sapete insomma che le mio prediligo ovviamente il poru resu ovviamente quindi la lotta il wrestling giapponese su tutti la nuova in pro wrestling e la stardom e poi ovviamente con uno sguardo anche alle due major americane per eccellenza cioè la wwe e la e e w stiamo facendo molto bene devo dire che mi aspettavo una resistenza maggiore vari da questa cangre ita io credo che si lega così ragazzi poi francamente non vorrei dire cazzate so che magari sto leggendo male qualcuno che conosce insomma lo spagnolo starà si strato quando le orecchie ecco per la mia pronuncia lo so lo so io che chiedo o mi mente scusa ma purtroppo non devo dire conosco lo spagnolo e allora francamente non conosco la esatta pronuncia insomma della della parola quindi chiedo che il che chiedo vieni è meglio chiamarla loca loca credo che si lega loca insomma credo che sia giusta sia giusta insomma la pronuncia e tanto tam schiva tutto e reverse ddt brava tam brava tam non è messa molto bene la loca chiamiamola così dai così ci togliamo il pensiero però devo dire che tutto sommato stiamo anche stiamo facendo bene ma non abbiamo ancora la finisher per chiudere brava tam perfetto no brava tam perché mi sono fatto male la schiena ok perfetto ora la prendo va bene no peccato peccato volevo un drottica alla kenta o la alla shibata purtroppo non non mi è uscito bene lì abbiamo la finisher abbiamo la finisher io direi anche di chiudere con la classica twilight dream direi anche un po modificata per insomma da verito che tu enti tu ma ci basta ci basta la classica twilight dream per mandare a casa la nostra loca chiamiamola così buona vittoria buona vittoria devo dire che mi aspettavo male una una lottrice un pochino male più coreacea ecco però dai va bene così il pubblico devo dire che forse non è molto contento della nostra vittoria forse gli fava l'atleta locale e francamente ci sta perché vedo un po di rumoreggiamenti ecco se mi fate passare il termine però vabbè dai ci sta ci sta tutto sommato ci sta ecco diciamoci le cose come stanno ok dai vediamo se abbiamo finito questa missione secondaria chiamiamola così chiamiamola così dai questa missione secondario se eventualmente abbiamo qualcosa no si sono conclusa ci danno un punto di potenzialmente vabbè dai va bene va bene ci allora c'è una notifiche cosa vuoi cosa vogliono ancora cosa voglio messaggi privati abbiamo un po di roba allora abbiamo abbiamo la nostra loca chiamiamola così che diamo un po cosa ci tornate a riuscire quando volete o fammi di rime a bene 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 vabbè dai tutto sommato amichevole bene è volentieri dai se c'è la possibilità di tornare e torneremo volentieri poi c'è ember moon cosa vuole ember moon sape che anch'io sono stato un allievo della squadra di booker t a perché non sono meglio di scuola di booker t non lo sapevo francamente devo dire la verità se hai bisogno di qualche consiglio fammi un fischio vabbè dai gentile ember grazie grazie a tina e a tina ora in in e i w il suo problema in cosa posso aiutarti c'è questa l'autore di vede jossi jay mi stava facendo impazzita ok la conosco e vedo a calcare giusto è il sad e si avete di come gestirla dopo che ci c'è ember franelli tene tre opzioni ignorarla diventarne amico prenderla schiaffi grazie sceglierò una delle tre ecco io scegliere l'ultima e cervella l'ultima sceglierei la la terza cioè prenderla schiaffi non so si può scegliere quindi allora se ti serve aiuto per la terza opzione informami a bene 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 allora freste coppia con me grazie me la cavo da sua me la cosa fareste coppia con me è contro di lei e appunto certo per un altro ex aglio di booker t ci sarò è gentilissima la nostra ember però bella di bella lì abbiamo un'altra storia secondaria una missione secondaria dai direi di sì partecipiamo quindi a quanto pare facciamo ci facciamo un un tag match a quanto pare cioè noi e ember moon o attina che dirsi vuole insomma chiamatelo un po come volete voi io la chiamo in questo momento ember moon perché in w si chiamo comunque si è chiamata ember moon perché si è uguale da blu ora la conosce ovviamente come atina ecco stiamo no poverina però la la nostra la nostra la nostra fanni noi l'hanno puntata in coppia con jossie jane proverina cioè non è molto amica di jossie jane lei perché poverino vabbè comunque ember grazie dell'aiuto ovviamente siamo ancora performance center noi c'è alla fine non non abbiamo ancora debuttato in un roster preciso abbiamo fatto quel match diciamo di quantità scouting in quel di monday row appunto contro la nostra sasha banks o mercedes monet che dir si voglia ora sapete che in new japan present si fa chiamare così però si siamo ancora ovviamente delle delle rook insomma proprio delle mamma mamma ruchi 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 ecco insomma devo dire che questa cosa però mi piace sono sincero cioè non si parte direttamente da un roster principale che sia rock e smag down ma anche anche nxt è per certi versi si parte quindi proprio dal dal dalle basi è una cosa buona insomma tutto sommato ti fanno partire ripeto proprio dalle 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 basi quelli proprio vivi il performance center come ripeto se fosse proprio proprio appena arrivato ecco nel mondo del wrestling e ci sta c'è questa cosa piace devo dirvi la verità magari tanti potrebbero non lo so che dire stossero il naso magari ecco a questo magari alcuni potrebbero volere una partenza non lo so magari un pochino più veloce dai mettiamola così ma invece tutto sommato questa partenza qui direi anche quasi a rilento mi piace mi piace è giusto fare le cose direi per bene piano piano senza avere fretta ci sta ci sta fanni devi andare fuori esso ti squalificano ovviamente a me per me va bene anche se come te lì in alto c'è scritto vinci il match per uno schieramento una sottomissione quindi se c'è squalifica credo che probabilmente il match non ce lo diano come come vinto ecco diciamo così insomma dunque vai fuori fai la brava a brutta a brava brava tam brava tam brava tam brava tam brava tam ecco devo dire che un pregio di tab è che scrivo a scrivo molto sono sincero rispetto ad altri atleti o atleti comunque che magari uso anche al di fuori ovviamente del delle modalità e quindi anche non so nell'esibizione ecco tanto per farci capire o anche online se ovviamente mi seguite che su twitch noi guardate le mie live sapete che gioco molto spesso insomma con insomma tutti 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 quelli che mi seguono ecco tra virgolette online ad w2k e devo dire che spesso e volentieri non si schiva molto nelle partite online anzi io vi do appuntamento anche su twitch vi ricordo che mi potrete trovare ovviamente appunto sulla piattaforma viola domenica alle 21 martedì e giovedì alle 17 se volete farvi qualche partita come ad w2k 22 online beh sapete dove trovarmi insomma tanto qua arriva una bella una bella german suplex ai danni di fanni che devo dire la verità un po mi dispiace quasi menarla perché è una ragazza direi non lo so alquanto bizzarra ecco mettiamola così però devo dire che mi sta simpatica ecco insomma tutto sommato ci ha sempre accorti accorti bene ecco durante da quando siamo arrivati no quindi mi dispiace devo dire menarla insomma sono sincero però ci tocca ci tocca ci tocca all'incontrario vedi jossi jane che è sempre stata abbastanza direi molto molto dura con noi ci scrivo alla finale la nostra fanni dai a pensa un po pensa un po la nostra fanni direi quella sorpresa e signori direi quella sorpresa pensa anche alla nostra fanni allora andiamo di speciale vediamo un po se passa e tiger suplex forse roll break forse no entra per aiutarci è lenta amber lenta amber allora jossi jane trova il modo di liberarla qui jossi però si sta addormentando dentro forse no forse sta uscendo carichiamo una fila finisher andiamo un po se riusciamo a farla passare niente ragazzi fanni e tanta roba torneo ddt ragazzi torneo ddt gran colpo gran colpo gran colpo ci vuole schienare vuole provare lo schienamento cosa può fare ci porta al centro del ring si direi che vuole provare lo schienamento noi però a conto di uno ci alziamo subito bel match questo e devo dire che rispetto a quello di prima è molto molto combattuto mi sta piacendo un botto fanni sta combattendo davvero davvero bene complimenti complimenti nulla da dire qua però ragazzi arriva il violent screwdriver di tan nakano che prova lo schienamento no peccato ero break ero break peccato peccato porca miseria peccato pensavo davvero che potesse essere finita allora cambio entra amber dai vediamo se riesce amber a far qualcosa anche perché è molto molto più fresca di noi dunque diamo spazio ad amber moon che gentilmente ci ha aiutato e la bella amber che gentilmente insomma è uscita insomma da il main roster per venire direttamente a performance center da aiutarci devo dire che è stato un bel gesto e da parte di ember perché lei va bene se ne poteva anche che se ne poteva anche francamente fregare dice vabbè alla fine io sono già un atleta di alto livello perché scendere e fare coppia con delle ruchi e noi siamo quello ragazzi noi come vedete ragazzi abbiamo non abbiamo ancora un roster fisso è avevamo come tutte rossi è vero contro sasha ma mamma mamma non abbiamo ancora nulla non abbiamo con un vero contratto con la debba da lì però fanni mi sta piacendo davvero tanto una ottima attenzione ragazzi guarda addirittura una guai noi salashimus ecco che fanni davvero tanta roba fanni ai ragazzi guarda qua ci tira fuori no bella ember però in questo caso no peccato ancora una white noise da parte di due processiamo veloce bella lì che ragazzi fanni e is on fire fanni is on fire fanni is on fire fanni is on fire dobbiamo sempre riusciamo a fare qualcosa for stavolta si bella bella torno diritti proviamo 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 1 proviamo due proviamo tre vicinissimi 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 davvero davvero vicini che succede a bella questa running flatliner direi dai diamo il cambio ancora la nostra tam andiamo con la nostra tam anche questa cosa di farmi giocare entra con entrambe le ragazze devo dire che non mi dispiace affatto non mi dispiace affatto anche perché loro poi magari con la cpu sono un po rinco allora francamente penso insomma gestirmi io poi magari perdo però almeno perdo io ecco nel senso non do non posso dare la colpa a nessuno giustamente bella 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 oh bellissima 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 dovremmo provare a dare il cane a dare il cambio dovremmo provare a schienarla però purtroppo non abbiamo ecco ecco qua è un order light suplex order light suplex l'abito si sta perdendo in un bicchiere d'acqua e jossie jane è anche molto molto veloce bel match ragazzi bel match davvero un bel match tanto jossie però non si fa i cavoli suoi no è jossie jane no brava tam brava tam bella bella lì bella lì bella lì vedo che amber ha la finisher però vorrei schienarla io ecco insomma vorrei schienarla vorrei proprio in questo merito insomma 1 2 arriva ancora jossie jane un po lenta amber devo dire la verità un po lenta ember nel come dire nel nell'aiutarci ecco qui c'è una cutter vediamo un po se riusciamo a chiuderla arriva ember 2 ehi ragazzi fanni corriaccia fanni è corriaccia tanta roba la nostra fanni e guarda qua ragazzi attenzione attenzione che c'è anche la finisher fanni eh bella 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 ehi valore screwdriver ancora dai che questa volta la mandiamo a casa sempre se non è road breaker no dai forse no arriva jossie james è 1 2 ehi purtroppo sì purtroppo sì purtroppo è lenta ember lenta ember ah jossie jane schiva tutto e vabbè lasciamola andare che altrimenti questa poi la conta un dentro e non vorrei dovermi rifare il match ecco tra virgolette dai bella uh bene 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 abbiamo la speciale tiger suplex allora dai tiger suplex tiger suplex ember aiutaci viene aiutarci ember ahhh grande ember grande ember e gran vittoria bene 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 davvero davvero bella vittoria comunque è bel match eh buon con bello combattuto bella mi è piaciuto fanni tanta roba e dai quindi insomma non è solo insomma una svampita la nostra fanni e anche brava sul ring bene dai direi bene bene ecco l'unica pecca ecco non siamo riusciti a schienare jossie jane avrebbe finito schienare lei però dai ci sta e se no diventiamo stavolta che hai problemi con qualcuno fammelo sapere grazie vabbè insomma si è quasi messa come nostra direi guarda del corpo direi amica su cui possiamo contare spalla ecco su cui possiamo sono contento sono contento dai va bene va bene sarà facile fare a quanto pare bocattia la vista lunga beh insomma lei del mer roster quindi ovviamente non ce ne deve vedere seguire le mie orme eh vabbè dai non esageriamo eh noi vogliamo sicuramente fare meglio di te e quindi eh 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 previsco pensare che sto tracciando la storia il mio eh infatti c'è il rocesto che io sono arrivato prima per dire no ok io sono la prossima per dire certo ok vedo che c'è un po' anche comunque di rivalità sono ancora in città perché non scopo qual è la migliore essere della scuola di bucatticci sto ah ci ha sfilato per un match ora dai vediamo un po' è interessante interessante super interessante ora insomma è nata un po' una specie di rivalità eh però dai ci sta ci sta alla fine è una rivalità eh direi genuina ecco in questo caso no vediamo appunto chi è la eh migliore allieva di Booker T tanto io non sapevo devo dire la verità di essere eh allieva di eh Booker T lo scopro lo scopro ora con voi devo dire la verità stiamo attenti che eh eh qua eh ci potrebbe essere anche eh direi la sorpresa eh signori perché eh ovviamente Ember eh devo dire che rispetto a 90 a noi è una insomma cioè una veterana ecco mi chiamola così eh quindi insomma non vorrei ecco tra virgolette che ci fosse la storia siamo partiti molto male devo dire la verità Tam non mi si alza più da eh terra Ember ci vuole alzare lei che vuol fare ah bene bene finalmente scriviamo qualcosa dai brava Tam ora cerchiamo di ehm insomma far vedere il nostro wrestling far vedere quello che siamo capaci di fare di ingranare come eh solo noi sappiamo fare dai vediamo un po' bello il backdrop bello bello eh eh cerchiamo di non perderci in un bicchier d'acqua perché è vero che eh l'avversaria eh non è sicuramente eh facile no diciamoci le cose eh come stanno stiamo parlando di una eh ripeto eh veterana e eh in termini anche di over io penso che ovviamente la ragazza eh sia molto eh molto più forte di noi io devo dire che ora come ora vi chiedo Venia ma non mi ricordo eh francamente eh quanto sia forte Ember Moon non c'è così su dei piedi non mi ricordo quanto abbia di overall però io penso che eh duro sommato sia più forte di noi poi magari non lo è eh non lo so eh non vorrei ovviamente dire delle cazzate che sia chiaro però eh così su dei piedi credo che lo sia attenzione come arriva una bella eh snap suplex eh addirittura con schienamento solo eh conto di eh uno eh quindi Ember ci ha fatto capire di eh avercene ancora beh dai ok bella bella cosa mi piace un botto devo dire la verità eh appena l'ho visto infatti all'interno del insomma del set di di mosse l'ho subito l'ho subito messo perché non so mi piace non so come mai eh lo trovo interessante ecco mettiamola così eh eh bella tam bella tam bella tam dai prova a salire in quota prova a salire in quota vediamo un po' eh bellissima bellissima eh ci facciamo male anche noi eh però eh dai ci siamo insomma ci siamo l'abbiamo presa siamo sacrificati abbiamo fatto un po' le darby allen della situazione ecco dopo farci capire nord e l'ex suplex eh due tre eh uh ragazzi quasi però eh mi sembra di aver visto la mossa eh eh speciale infatti c'è allora uh non passa però bella tam bella tam bella tam eh bella schivata però peccato che non ben passata eh speciale eh dai dai ci eh riproviamo appena possiamo attenzione che uh bravo ancora una volta tam bravo ancora una volta mi piaci così mi piaci così sempre a schivare german suplex allora bene così bene così fai tam fai tam eh perfetto dai oh ember però si è un direttamente direi che si è incazzata eh direi che si è incazzata uh brava ancora tam brava la nostra tam bella questa cutter bella questa cutter bella questa cutter c'avevamo la finisher c'avevamo la finisher però sembrerebbe forse anche un po' troppo presto ancora un'altra cutter eh proviamo a salire in quota ancora una volta eh vediamo se passa il moonsault direi di si questa volta direi di si vediamo un po' vediamo un po' uno vediamo un po' due vediamo un po' tre uh ragazzi uh ragazzi allora ragazzi direi di eh andare eh con la finisher vediamo se eh passa vediamo se passa e allora direi di si eh twilight dream eccola qua vediamo un po' vediamo un po' col uno vediamo un po' col due vediamo un po' col tre ragazzi e quindi noi siamo i migliori ehm esponenti della scuola di eh Booker T io ne avrei fatto francamente a meno ma eh tant'è signori tant'è eh 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 ci tocca questo titolo insomma ci tocca questo titolo eh 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 vabbè dai lo prendiamo volentieri insomma dai Booker T comunque tra l'altro è una leggenda io devo dire che non sono mai stato un suo super fan però eh dobbiamo eh assolutamente dargli credito eh assolutamente bene eh abbiamo finito anche eh quest'altra eh storia secondaria diciamo così dai diciamo eh così signori io direi che eh per oggi è tutto direi che possiamo fermarci qua insomma se state guardando il primo passaggio ehm ovviamente di questo video vi ricordo che questa sera cioè domenica eh 12 febbraio alle 21 sarò in diretta su Twitch quindi insomma se volete venirmi a trovare anche eh sulla piattaforma viola sapete eh insomma come dire dove trovarmi ecco mettiamola così per quanto invece riguarda il nostro canale YouTube eh giovedì 16 sempre alle 14 uscirà la recensione dell'ultimo per per view eh della eh Stardom eh quindi Stardom Supreme Fight 2023 eh mentre per quanto riguarda insomma la nostra TAM appuntamento ovviamente a domenica prossima eh sempre alle 14 eh vi ricordo eh se il video vi è piaciuto eh e via dicendo insomma di eh lasciare like e iscrivetevi al mio canale e eh ovviamente di eh condividere il tutto con i eh vostri amici grazie a tutti e alla prossima matanè